Un popolo numeroso, quello che si è raccolto attorno a Papa Francesco sul piazzale antistante la Basilica di San Giovanni in Laterano per celebrare la solennità del Corpus Domini. Un popolo fatto anche di pellegrini giunti a Roma per il Giubileo della Misericordia, religiosi e religiose, membri del clero e tante famiglie che insieme al loro Vescovo hanno riflettuto sul mistero più grande di tutti, quello dell'Eucarestia, diventato da subito, da quel primo gesto di Gesù nell'ultima cena, centro e forma di tutta la Chiesa. Fate questo in memoria di me, scrive l'Apostolo Paolo nella lettera alla comunità di Corinto. Fate questo, ha ripetuto il Pontefice, prendete il pane, rendete grazie e spezzatelo, prendete il calice, rendete grazie e distribuitelo. E questo gesto è giunto fino a noi, è il fare l'Eucaristia, che ha sempre Gesù come soggetto, ma si attua attraverso le nostre povere mani, unte di Spirito Santo. L'importanza del fare, ha affermato il Papa, emerge anche dal Vangelo di Luca, che narra la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Quando Gesù ai discepoli, che gli chiedevano di congedare le folle perché non c'era cibo a sufficienza, dice loro di mettere a disposizione il poco che avevano, quei cinque pani e quei due pesci, per renderli così partecipi di quel miracolo che sfamò tutti. È chiaro che questo miracolo non vuole soltanto saziare la fame di un giorno, ma è segno di ciò che Cristo intende compiere per la salvezza di tutta l'umanità, donando la sua carne e il suo sangue. E tuttavia bisogna sempre passare attraverso quei due piccoli gesti, offrire i pochi pani e pesci che abbiamo, ricevere il pane spezzato dalle mani di Gesù e distribuirlo a tutti. Fare dunque, ma anche spezzare, non solo il pane, piuttosto la nostra stessa vita per gli altri, soprattutto quando sono nel bisogno, sulle orme di Cristo, che per primo ha dato tutto se stesso, e attingendo da Lui e dal Suo amore la forza per poterlo fare ogni volta. Ma pensiamo anche a tutti i santi e le sante, famose o anonime, che hanno spezzato se stessi la propria vita per dare da mangiare ai fratelli. Quante mamme, quanti papà, insieme con il pane quotidiano tagliato sulla mensa di casa, hanno spezzato il loro cuore per far crescere i figli e farli crescere bene? Quanti cristiani, come cittadini irresponsabili, hanno spezzato la propria vita per difendere la dignità di tutti, specialmente dei più poveri, emarginati e discriminati? Dove trovano la forza per fare tutto questo? Proprio nell'Eucaristia, nella potenza d'amore del Signore risorto. Subito dopo la celebrazione, la solenne processione eucaristica con un fiume di gente che ha attraversato via Merulana fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, cantando inni, recitando preghiere e letture bibliche. A chiudere la liturgia, il canto del Tantumergo e la benedizione impartita dal Papa con il Santissimo Sacramento. Un altro gesto per incoraggiarci a spezzare la nostra fede e la nostra vita come segno dell'amore di Cristo per Roma e per il mondo intero.